La mia seconda famiglia è questa, non ci sono dubbi, perché per cinque anni ho sacrificato la mia, e questo insomma chiedo scusa a mia moglie e ai miei figli. Esordisce così il presidente della provincia Giuseppe Raffa durante l'ultimo consiglio provinciale prima del passaggio alla città metropolitana. Visibilmente emozionato, Raffa traccia le linee anche per il futuro. Cosa faremo noi da qua a qualche giorno? Noi continueremo la nostra vita e cercheremo di essere al servizio come lo siamo sempre stati. Lo faremo ancora di più interpretando la politica del servizio vero, concreto, reale, perché questa è la forza che ci dà la possibilità di dire io non rispondo alle polemiche, io devo rispondere alla gente, ai bisogni quotidiani, ai tanti disperati che si affacciano a noi alla ricerca di lavoro. Secondo il presidente della provincia, la stampa perde di vista quelli che sono i valori reali della politica. Ringrazio i mezzi di formazione presenti, perché poi la stampa purtroppo spesso perde di vista quelli che sono i valori che stanno alla base della politica. Sicuramente la stampa non riporterà queste lacrime, non riporterà questi sentimenti, non riporterà che qua c'è una classe politica che vuole il bene del territorio e lo abbiamo dimostrato in ogni circostanza. L'ultimo giorno di scuola quindi alla provincia di Reggio Calabria, dopo gli interventi di assessore e consiglieri che hanno riassunto gli anni trascorsi insieme, messi da parte screzze e dissapori, vaci a bracci per salutare l'ultimo consiglio provinciale eletto dal popolo, in attesa di chi sarà votato nella prossima città metropolitana.